Vari ministri stanno parlando e uno più di tutti Salvini che in mattinata ha fatto un vertice economico con il ministro Giorgetti e altri della Lega chiamandolo un vertice economico di governo e poi ha detto varie altre cose che lui vuole il controllo dei porti quindi non è che i porti vanno al ministro per il mare per il sud eccetera eccetera quindi diciamo cominciano già i primi problemi e sono dei cosiddetti pizzini alla neo premier Giorgia Meloni Ma intanto Salvini sa fare praticamente soltanto quello parlare e fare teatro se gli levi anche la comunicazione Salvini sparisce Il problema è che nel 2018 quando lui diventò vicepremiere ministro dell'interno del governo Conte tutto l'establishment e i grandi media puntarono su Salvini per far fuori Conte e i 5 Stelle di Maio e quindi lo pompavano e qualsiasi sua fuordopera veniva scambiato per un segno di forza la leggenda era che comandava Salvini, faceva tutto Salvini anche se poi non ha combinato assolutamente niente se non quel decreto sicurezza che poi fu in parte ridimensionato Adesso invece il potere sta da un'altra parte il potere pompa la Meloni e quindi ogni mattana di Salvini verrà presentata come un'azione di disturbo e quindi non gli porterà voti, non gli farà raddoppiare i voti come gli successe in un anno e mezzo nel governo Conte 1, gliene farà perdere degli altri Tu che giudizio dai sul governo di Giorgia Meloni? Perché sei stato piuttosto severo, hai scritto che è un governo di mediocri Beh, 11 ministri stavano nei governi Berlusconi secondo e terzo o secondo e terzo o secondo e terzo quindi possiamo già giudicarli per quello che hanno fatto allora hanno fallito perché se ne sono dovuti scappare nel 2011 anzitempo perché ci avevano portati praticamente al disastro è un governo presieduto da una donna e questa è una bella svolta da una donna giovane e questa è una bellissima svolta però è formato quasi tutto da maschi molto in là negli anni non è soltanto un governo vecchio per anagrafe è un governo vecchio per idee ed è un governo vecchio per lobby perché attraverso quei vecchi ritornano tutte le lobby delle quali ci eravamo liberati prima del ritorno di Draghi e dell'inizio della restaurazione guarda che deve essere stato uno shock per quei quanti sono 7 milioni erotti di elettori di Fratelli d'Italia che chiaramente hanno votato la Meloni perché la ritengono coerente in quanto per 11 anni consecutivi da Monti a Draghi è stata sempre all'opposizione vedere che il primo atto del primo consiglio dei ministri del governo Meloni è la conferma con un'altra veste del ministro Cingolani cioè uno dei peggiori del governo dei migliori uno che non ne ha azzeccata una sull'energia un nemico acerrimo della transizione ecologica di cui avrebbe dovuto occuparsi uno che si eccita a parlare di nucleare persino di fossili e financo di carbone uno che ha fatto i conti sbagliati anche il neoministro dell'ambiente ha detto oggi che bisogna prendere in considerazione nucleare si chiama Gilberto Fratin e faceva coppia fissa con Cingolani perché era già nel governo Draghi faceva coppia fissa in Europa con Cingolani a combattere a favore della lobby di Stellantis della lobby dell'automotive che non vuole nemmeno la scadenza del 2035 per la transizione dalla benzina all'elettrico hanno combattuto fino alla fine quella battaglia contro il green e contro l'ecologia questo è non c'è nessun afflato di cambiamento ma se non vogliono fare il cambiamento sulla transizione ecologica lo facciano su qualcos'altro ma è possibile che la Meloni non abbia un giovane da mettere a fare il ministro tra i giovani che ha nella sua squadra possibile che li lascia tutti parcheggiati nel partito e ci ritornano la Santa Anche e arriva Nordio con 70 passani con quelle idee antidiluviane per cui il problema in Italia è il traffico di influenze e l'abuso d'ufficio cioè stiamo parlando di roba vecchissima vecchissima Giorgetti era il ministro del governo Draghi contro cui la Meloni è stata l'unica all'opposizione adesso gli hanno dato la principale vetrina il principale potere la cassa cioè il ministero dell'economia ma uno che ha votato per cambiare questa roba qua ma non scriverà a Palazzo Chigi per dire scusa Giorgia ma che abbiamo votato a fare se ci ritorna Giorgetti e ci ritorna pure il Cingolani ma dov'è la svolta? E a te che impressione fanno tutte queste ridenominazioni dei ministeri? Dunque quella del Made in Italy mi fa ridere così come la polemica perché la Meloni usa una macchina che non è italiana non esistono più macchine italiane da quando l'unico produttore di macchine italiane ha sede tra Parigi, Londra e Amsterdam quindi la polemica perché la Meloni dice nazione e non paese l'abbiamo sentito tutti il giuramento prevede che eserciti i suoi poteri nell'esercizio esclusivo della nazione quindi è un termine costituzionale nazione, non è fascista perché in questo momento c'è una tendenza da parte di quelli che non hanno ancora capito che la campagna elettorale è finita e che la destra ha vinto le elezioni e sta governando legittimamente a considerare tutto quello che fanno come cacca e non è così bisogna distinguere Made in Italy fa ridere sovranità alimentare è uno slogan di Slow Food di Carlin Petrini che ne parla in Brasile con Lula e lo ha anche spiegato cioè riguarda il chilometro zero riguarda la produzione locale il merito vediamo se quella parola merito significherà che nella nostra scuola modello Meloni verranno discriminati i bambini ci ribelleremo tutti perché la scuola è di tutti e deve formare tutti se significherà semplicemente che bisogna attendere a farli diventare un po' migliori e quindi a prendere possibilmente dei buoni voti e dei buoni giudizi perché io non ho mai visto un bambino che va a casa e i suoi genitori gli raccomandano di prendere due e di sbagliare tutte le risposte alle interrogazioni quindi il merito è insito nella scuola il fatto di sottolinearlo sai che cosa denuncia la coscienza che ha la Meloni di non essere riuscita a cambiare niente a livello di facce e quindi per dare ai suoi elettori la parvenza di un cambiamento cambia qualche parolina e così adesso dovranno rifare la carta intestata dei ministeri ma è un segno di debolezza e quindi